Vado, sempre master della ricchezza, Monte Grotto Terme, è con noi l'avvocato Rosa Chiericati. Volevo capire com'è andato, se l'ha trovato interessante, se ha spunti da dare alla Tominex. Mi dica qualcosa anche dei relatori, avvocato a lei. Sono veramente stata molto soddisfatta di questo corso. Per me è stato l'affrontare un campo nuovo e nonostante la materia complicata e piena di nuove informazioni e devo dire che i relatori hanno saputo passare per vari gradi nell'informazione ed anche arricchire con casi pratici e esemplificativi per far meglio capire le applicazioni di quello che andavano esponendo. Quindi posso dire che sono veramente molto soddisfatta. Anche l'ambiente scelto è ottimo, estremamente confortevole. Sono calibrate le pause in merito anche in relazione alla difficoltà e all'attenzione che serve, quindi sono necessarie per riprendersi. Sono veramente molto soddisfatta. Complimenti. Grazie mille, avvocato. Quindi la rivedremo ancora. Buon traste intanto. A lei. Buongiorno. Buon traste intanto.